caos col promo di pomeriggio 5 di barbara d'urso oggi è saltato tutti i pomeriggi o meglio in quelli dal lunedì al venerdì la conduttrice appare su canale 5 per annunciare al pubblico gli argomenti della puntata del giorno un promo che va in onda durante la sop turca quindi durante la pubblicità barbara lo fa in diretta non è un video registrato prima e poi mandato in onda per questo motivo pur sapendo l'ora esatta in cui è in onda la conduttrice si prepara davanti alla telecamera un po prima e cioè verso le ore 17 e aspetta il momento di parlare al pubblico oggi quel momento però non è arrivato ma durante una pausa pubblicitaria della sop turca al momento in onda brave and beautiful è apparso un fuorionda di barbara d'urso probabilmente lei non sapeva di essere in onda anzi quasi sicuramente perché anziché elencare gli argomenti del giorno ha detto tutt'altro parlando con la sua squadra di produzione ha infatti esclamato mi avete fatto saltare di sicuro dietro queste parole c'era un po di nervosismo ma niente di che la d'urso ha rivolto una domanda a chi è dietro le telecamere per capire cosa fosse successo aveva di sicuro un'espressione sorpresa e solo chi era in studio può sapere cosa è successo dopo questo fuorionda di pomeriggio 5 quando la puntata è cominciata però barbara ha dato spiegazioni al suo pubblico dato il benvenuto e dopo aver ricordato di non avere segreti barbara d'urso ha ammesso di aver pensato di essere su scherzi a par come al solito mi sono messa davanti alla telecamera alle 17.01 pronta per fare il promo alle 17.13 stavo così e aspettavo 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 nessuno mi diceva niente chiedevo chiedevo dico vabbè sono su scherzi a parte è impossibile e alla fine non sono entrata nelle vostre case a 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